amici di milan punto soccer buongiorno di nuovo e qui la telecamera ma proprio la base e non devi guardare gli uccellini sulla finestra eccoli qua ben ritrovati l'occasione ghiotta per ricordarvi che stiamo facendo un nuovo progetto un nuovo progetto dedicato a chi al milan under 23 sotto link in descrizione un po più in basso però visto che adesso youtube ha cambiato lo mette anche a destra vedete voi insomma potete andare sul canale chiocciola milan futuro ecco oppure digitate milan futuro punto soccer insomma entrerete nel nostro nuovo canale tutto dedicato all'under 23 piccola precisazione per qualcuno che ha fretta di commentare prima di ascoltare o magari qualche volta non capisce perché è colpa mia non mi faccio capire qui non paga la società secondo voi qui paga la società la c milan mi paga ma per coppia stare zitto mi paga ma l'avete sentiti non dico a qualcuno che vabbè fallì ma li ascoltate i video oppure prendete delle parti tipo blog penso che non ci sia un canale più critico di questa società e poi quando vogliamo seguire il milan lo facciamo a spese nostre noi non siamo invitati come volete che vi dica chi è che viene invitato a milanello o alle conferenze stampa noi cacciamo la moneta e stiamo fuori dal cancello l'otto luglio di qua d'accordo e chiaro qui grazie a tutti coloro che già si sono iscritti non ti arrabbiare non ti arrabbiare grazie a tutti coloro che si sono iscritti e che lo faranno ancora allora questa puntata è dedicata indovinate a chi ci siamo rimessi di nuovo una maglietta color rosa perché è come possibile cara gazzetta dello sport che non esalti più i tuoi amici dell'inter in nazionale caspita non so quanto quante quante righe quanti quante colonne quanti articoli sono stati fatti sull'inter l'italnazionale l'internazionale inter trattino nazionale aveva scritto internazionale e com'è che adesso non scrivi più niente non riesco a capire cioè come mai tutti quei talenti bastoni d'armian di marco barella frattesi com'è che non ne scrivete più adesso non sono andati bene forse dai alla fine alla fine è andata abbastanza bene la nazionale è andata abbastanza bene la nazionale no e allora vedete quando avete scritto il milan non ha nessuno in nazionale beh avete scritto delle falsità perché i nazionali che sono nel milan sono campioni d'europa sono tutti giovani perciò nasce milan under 23 milan futuro ecco perché il futuro della nazionale si chiamerà milan ma questo voi non lo scrivete perché perché non siamo un paese per giovani siamo un paese per vecchi ma forse nemmeno siamo un paese per chi paga perché la gazzetta è sponsor ufficiale dell'inter basta andare sul sito dell'inter lo so che l'ho detto mille volte lo diciamo mille una così lo ribadiamo ancora una volta oggi è una giornata un po speciale però per noi perché da qualche minuto hanno salutato ufficialmente girù e chi è grazie grazie davvero ragazzi non vi dimenticheremo io ho un po di gruppo in gola pensando ad olivier girù quando si è girato al fatto che non potremo più cantare si è girato girù ecco è un giocatore che è venuto forse in punta dei piedi anche un costo veramente irrisorio per il mercato attuale eppure ha lasciato il segno gli abbiamo affidato troppo probabilmente poi l'età passa l'età passa per tutti e quindi è chiaro che anche per lui è arrivato il momento di dire basta mercato la cosa che ci interessa un po di più fofana si avvicina è vero e orighi si allontana c'è da dire che io su fofana mi sono ho guardato diversi video mi sono informato è un giocatore molto interessante è un giocatore molto interessante però volevo fare una disquisizione con voi volevo volevo parlare con voi di questo ma se ho ancora questo dubbio io ho un dubbio che non ci dormo la notte davvero ma secondo voi alcuni giocatori indicatemi quali nei commenti se posti in campo e allenati da qualcuno diverso da pioli secondo voi renderebbero di più cioè ci sono tanti giocatori sentivo ieri un sì adesso arriviamo anche alla questione di copertina certo che sì sentivo ieri un servizio in televisione su alcuni nomi fatti ma di varie squadre anche internazionali argentine spagnole dove alcuni giocatori dati per bidoni passiamo un termine poi messi in campo da un allenatore in modo diverso e cambiano completamente loro atteggiamento io ho qualche dubbio su questo perché alcuni giocatori forse su ciucuese io all'inizio ho dato un un ecco un'interpretazione un po troppo affrettata vorrei capire da voi vorrei capire da voi perché tra di voi ci sono anche persone molto più esperte di calcio di me io sono solo un amante del milan e ripeto non pagato dalla società caro amico mio io mi ricaccio da soli i soldini ok e detto questo però mi piacerebbe capire da voi se la sensazione che ho per me su ciucuese voi l'avete su qualche altro giocatore che in odore di uscita o che magari è in odore di panchina o che è stato in panchina con pioli fatemi sapere cosa ne pensate arriviamo alla copertina sì avete ragione dunque ieri ho ascoltato attentamente una un'intervista a boban ha parlato del suo del suo milan ha parlato della sua storia ha parlato del suo ritiro e poi ha parlato della sua attività da dirigente e ha parlato quindi anche dell'attività di dirigente del milan e ha parlato di questa proprietà di questa proprietà americana ora la questione in questi termini si pone in maniera abbastanza chiara io non me l'aspettavo ma nei termini in cui lui stesso ha indicato il rapporto con questa società vale a dire la proprietà americana così come tutte le proprietà americane quando decidono un budget e quando decidono dei ruoli quei ruoli valgono come funzione di informativa cioè se io sono un direttore sportivo e sono le vecchio direttore sportivo che ne so di una squadra qualsiasi io ho capacità di spesa entro certi limiti ma poi faccio ciò che voglio nel caso di jerry cardinale non solo una volta assegnato il budget devi riportare a lui e chiedere a lui direttamente senza nessun intermediario se è possibile andare fuori budget ma anche all'interno del budget lui decide cioè alla fine decide anche i nomi che non so con qual tipo di competenza quindi lui dice io me ne sono andato e poi faceva chiaramente intendere la stessa cosa per paolo maldini perché il suo intervento era al cento per cento per il budget per i budget bassi per i nomi per le nazionalità cioè è padrone unico quindi tutto ciò che si muove attorno a lui compresi braimovic ovviamente furlani moncadane pur a parlarne tutto ciò che viene deciso viene deciso da lui ora è chiaro che io pensavo venissero assegnati dei budget all'interno del budget dare una certa libertà ma avere queste maglie così stringenti rappresenta per noi un disastro ancor più grande perché perché non si capisce qual è la competenza che possa avere un americano che per la prima volta si approccia al calcio importante d'europa d'europa perché la squadra precedente insomma sì è una squadra importante ma insomma non di caratura non come il milano per intenderci e allora con quale tipo di competenza e soprattutto con quale tipo di atteggiamento rispetto a questi dirigenti che sono dei porta le porta borracce e come nel ciclismo quello che gli tende la borraccia alla fine decide lui e l'anno questa cosa non è che mi ha sconvolto è perché poi si è capito però proprio nel dettaglio avere un amministratore delegato un consultant fanterstein non so che cos'è ibraimovic oppure uno stesso capo scouting che hanno come dire l'unica l'unico ruolo quello di presentare e poi non decidere a me inquieta molto va bene la direttrice si è stancata è molto caldo ci sentiamo più tardi mi raccomando iscrivetevi milanfuturo.soccer ciao ciao